Non tutti sanno che il 20 maggio è la giornata mondiale delle api e che San Pietro in Gu è un comune amico delle api perché mette in pratica iniziative ecologiche volte a valorizzare l'apicoltura e il benessere di questi straordinari insetti, sentinelle della biodiversità e fondamentali per la conservazione della natura e dei suoi frutti. In particolare, già attuati, abbiamo impegnato una lotta alle zanzare con trattamenti larvicidi che quindi non intaccano in nessuna maniera l'attività delle api e anche trattamenti alle alberate abbiamo evitato di farli nel momento in cui queste sono in fiore. Tutto questo per cercare di migliorare la qualità dell'ambiente e di favorire lo sviluppo di questi animali, di questi insetti che sono fondamentali per la nostra vita, per l'impollinazione delle piante che mangiamo e comunque per l'ambiente circostante.